Tripudio giallorosso al Bernicchi. Dopo tre finali su tre perse è l'Angelana dei mister Riberti a conquistare la Coppa Italia di eccellenza 2021-2022 al termine di un match contraddistinto da molteplici episodi. Passano quattro minuti il portiere dell'Angelana Cucchiararo con un appoggio da incubo notturno. Serve un assist d'oro al capocannoniere del campionato Valori che di piatto interno non sbaglia per l'immediato vantaggio Lamarino. Passano però ulteriori tre minuti e l'Angelana pareggia grazie alla linea verde. Traversione da destra del 2003 Pauselli. La palla attraversa l'intera area e sul secondo palo sbuca Bartolini classe 2001 che con un destro di prima intenzione piega i guantoni a Baccarecci per l'immediato 1-1 a Sisano. Poi al 31esimo da rilancio profondo di Cucchiararo vent'anni penetra come un coltello nel burro nella difesa bianconera trafiggendo con un perfido colpo sotto Baccarecci per il vantaggio Angelana che chiosa anche la prima frazione. Nella ripresa dopo 11 minuti e l'ora Lorenzini a sfiorare il Tris per gli assisani ma Baccarecci è prodigioso a distendersi e respingere la conclusione ravvicinata. Poi al minuto 62 proteste la Marine per un contatto in area tra Valori e Bartolini per l'arbitro Capoccia di Perugia e tutto regolare. Altre proteste al minuto 70 quando Bartolucci sovrasta bolletta e con una gran cornata provoca l'autorete di Melillo ma per Capoccia e falli in attacco del centravanti bianconero e il gol è annullato. Al minuto 76 Gran sinistro a giro dal limite di valori parabola che si alza e poi scende repentinamente andando ad incocciare in pieno la traversa con Cucchiararo basito. Sfortunatissimo per l'Angelana il noentrato Bianconi che si fa male in maniera anche piuttosto grave alla tibia dopo un contrasto con Mambrini e nell'occasione bel gesto di fair play del portiere Vaccarecci che mette fuori la sfera invece di rilanciare l'azione. La sfortuna calcisticamente parlando colpisce però anche il lama nel convulso finale. Al quinto di recupero di fatti la palla arriva sul vertice destro dell'area Bartoccini. Destro secco respinto da Cucchiararo ma centro area irrompe Marinelli. Sinistra botta sicura che colpisce ancora il palo e la difesa libera. Esulta così l'Angelana che alza nel cielo tifernato il trofeo e sarà ora impegnata nei spareggi nazionali che valgono un posto in Serie D.